Dunque, faccio questo video perché postare su YoYo Maniacs è diventato a quanto pare impossibile, nel senso che esprimere il proprio giudizio, se questo giudizio va contro il direttivo, è diventato impossibile. Ieri e oggi ho scritto dei topic riguardo alla modalità attraverso la quale si abbandona lo status di socio e questi due topic sono scomparsi e sono stati trasferiti nell'area dedicata ai soci. La cosa bizzarra è che uno di questi topic che arriva è il fatto che tutti gli associati di YoYo Maniacs, fino a loro disdetta scritta, sono soci. Nel senso che se voi vi siete associati nel 2009 e non avete pagato l'iscrizione del 2010, il vostro abbonamento è stato automaticamente rinnovato e voi siete considerati soci morosi. Questa cosa mi è stata fatta presente anche oggi dicendovi appunto che non ho pagato la tassa della gabella del 2010 e che quindi sono da considerare moroso e non posso leggere i topic dell'area dedicata agli associati proprio per la mia morosità. La cosa bizzarra è che il topic che è stato spostato riguardava appunto i morosi. Quindi tutti quelli che non hanno rinnovato l'abbonamento e che sono morosi in questo momento non possono vedere il topic che ho scritto. Il topic che ho scritto non mi sembrava nulla di scandaloso, spiegava questa cosa che vi ho appena detto e niente, diceva semplicemente che se non volete più essere soci morosi l'unico modo per non esserlo è o pagare oppure mandare una mail a direttivochiocciolayoyomaniacs.it e scrivere appunto io ho sottoscritto Pinco Pallino, voglio essere tolto dallo status di socio e cancellatevi dall'elenco dei soci di Yoyomaniacs. Volendo, se la cosa vi fa piacere o volete farlo, potete anche chiedere di far cancellare i topic. Topic che avete scritto o gli eventuali video che hanno girato su di voi, cosa che io farò molto presto. Niente, tutto qua. Visto che la democrazia a quanto pare non è morta solo in Italia ma è morta anche in queste piccole realtà associative, mi vedo costretto a fare questo video perché è l'unico modo per esprimere un concetto che fra l'altro non mi sembra neanche così scandaloso. Niente, tutto qui. Scusate se ho messo solo due medaglie ma oggi ho una di testa e le altre due erano abbastanza pesanti. Ciao!